Musica Hello a tutti sono Bear ed eccoci qui in questo nuovo episodio della Bears Modpack dove andremo ad esplorare quel dungeon la Ho 50.000 spade di ferro non mi servono grazie e potevo anche farla prima di iniziare a registrare però sta cosa Comunque togliamo il barattolo cioè non il barattolo il letto ogni tanto mi escono nomi strani per cose strane per qualche strano motivo Comunque chissà cosa cavolo c'è in questo dungeon se non erro questo dovrebbe essere un dungeon della Bo Dungeons Sì quindi non ho la pari idea di cosa ci sarà in questo dungeon Ok c'è uno spawner di sopra alla luce del sole quindi chi se ne frega Uncommon treasure alla feccia uh che so ste robe Golden ah ok togliamo da mezzo non ci spoileriamo le cosette Ok ho trovato degli uncommon treasure che mi stanno dando Uh diamanti Yeah Ne ho tanti non mi servono Allora Mi ha dato delle enderpearl Smeraldi Cold coins sta roba Beh ok mi ha dato roba a random E vediamo un po' Questo episodio è stato registrato prima di caricare il precedente Quindi se mi avete detto Ber non c'è andare Non lo so Già Quindi Vediamo un attimo qua dentro Uh lì c'è un'altra roba Ok sta roba l'avevo un po' Vissamente si generava il mondo E vediamo un po' Uh Lexica botania E che cosa sei Uh guardate Quando si tipo clicca Si girano le pagine qua sotto Oh ok Quindi questa roba è una wiki praticamente Ok ho capito Però sembra la towncraft Lexica botania Botania options Oh Botania achievements Oh che ficata 184esima edizione Wow Bella Questa roba mi piace Poi abbiamo una knowledge fragment Uh un cuoricino Possiamo fare i cuoricini con queste robe Ah questa è della towncraft Roba della blood magic O della blood magic E delle cose da singolo utilizzo Ok aspettate un attimo Facciamo una cosa Mettiamo il nostro adventure pack qua E schiaffiamoci dentro tutta la roba che non mi serve Che è figa però non mi serve per ora Ok Mettiamoci questa roba Poi iron horse armor Qua dentro che c'è Uh uh Manasteel Ok Un altro libro Il townmamicon Uh Questa è una roba della towncraft Uh Golemansi Ok Oh un altro libro figo In queste robe si trovano tanti libri fighi Ok mettiamo anche questo libro figo qua dentro Poi Ehm Che c'era qua Uh Un'altra roba della towncraft Una saddle Ne ho due adesso Un music disc Grazie della redstone Ok Sta roba però Dai te la Lascio E wow Che figata Ho trovato un bel po' di cose Vediamo se c'è qualche altro posto dove andare Uno due tre Vediamo un attimo C'è qualche altra cesta da depredare qua dentro Uh Le terre di lavanda Che belle Uh Quella è una grossa montagna Ok dopo andiamo Alla montagna solitaria La Ok mi sa che là sopra Uh ma continua di là Ok Andiamo un po' di trovare roba figa qua dentro Perché non mi fa piazzare le cose Ok Grazie Qui non c'è niente Ok No però Mi sa che Non è che ci sia chissà che cosa Prendiamo un po' di blocchi Per andare di là Uno Due Tre Ok passiamo a questi blocchi qua Ok Vediamo Qui non c'è niente Vai Lì c'è la cesta che ho già preso Proviamo a salire qua Vediamo se c'è quasi qualcosa No C'è niente Ah Ok Mi spezzo le gambe Ok mi sa che non c'è nient'altro In questo dungeon E quindi Possiamo andare Penso Ok qui c'è qualcosa Oh Super lag No non c'è niente Ok possiamo andare Mi sa che ci sia generato qualcosa di grosso Questo super lag Che poi effettivamente È bello esplorare insieme Però non è neanche troppo buonissimo Perché Uh Che cos'è sei tu Mana bin What No lo voglio Spe Ce li ho gli smeraldi Dammelo What Damocraft Che grazie tizio Ah è scontento che abbiamo Cambiato robe Eh cinque Ma non ce li ho cinque Mi dispiace Ok dai dammi No 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 Me lo conservo Magari trovo qualcuno Che ha qualcosa E tu hai per caso visto Ernie No Ma che cacchio Nessuno lo vede mai Ernie Comunque qui c'è un altro Wow 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 Cos'è è un mostro Si Mi sa che è un mostro E qui c'è un qualcosa Buttato a terra A dissolvent Taint Guy Has infected you with taint Ah Ecco perché sto prendendo danno Ok Allora Lì c'è la montagna solitaria Si sa che sta facendo Lì da sola con la montagna E poi qui c'è un'altra roba Della towncraft Ce n'è parecchia Di sta roba Della towncraft Però Ne è una qua Una qua Poi ne è un'altra qua Comunque stavo dicendo che È bello andare ad esplorare In giro insieme Però Non è troppo Magnifico Per il fattore lag Già Cos'è sta Ah Ah Devo fare attenzione Cos'è sta cosa È Della Gravestone Ok Wuh Obelisk Ok Grazie per l'obelisco Random Mi sarà molto utile Forse Ah Mannaggia Ma ogni tanto Me lo fa O Adesso me lo farà per sempre Tipo Questa cosa Parecchio fastidiosa Spero Che smetta A breve Già Ok Ok qui c'è un Beehive Dentro L'albero Cioè non appeso L'albero Come gli altri Come le altre api No Queste api sono fighe E ce lo fanno Dentro L'albero Eh Allora Mi sa che non Troveremo mai Un deserto Perché devo Cambiare blocco Per la mia Casa Perché qua Hanno detto Che il deserto Non ce lo vogliono Ah Uh Sta casa è diversa Perché è così diversa Che è roba della witchery Ah no È tipo Della gravestone Sono queste candele Delle grave Ah ok Queste sono delle normali grave Aspetta Metta a posto Metta a posto Non mi ammazzate Che fegata Posso fregarmi le candele Sì No Dove è andata Eccola Eh oh Sono fighe le candele Mi piacciono Posso fregarmi anche sto coso Sì Ah ah Bella Posso craftarle anche Sì posso craftarle Che è Che figata Ok Ho visto No ok Ah ho visto prima un altro Strano Ok Quello più strano Io avevo visto questo Che mi dà per i gold coin Un emerald E tu invece Per un emerald Mi dai 10 candele Dammi Grazie Sve Facciamo un po' di scambi Miei compari Aspettate Perché io ho dei soldi Tu adesso con i soldi Mi dai Gli smeraldi E io con gli smeraldi Mi compro le candele Eh no 30 smeraldi Dammi le candele Grazie Grazie amico Ok Bella sta cosa Ok Oltre a questo villaggio Pieno di roba figa Uh C'è anche una Forge qui Vediamo un po' Cosa c'è dentro C'è del cook Ok E lì fuori c'è un tizio Cattivo Che non vuole Lasciarmi stare Probabilmente Quindi mangiamo Uh cavalli Oh Ci sono anche Ah ho I cavalli Quindi magari adesso Riusciamo a domesticare Un cavallo E magari con lui Riusciremo ad andare All'esplorazione Più velocemente E Allora Adesso bisogna Un attimo dormire Ok I villager Stanno scappando Dappertutto Ok E poi Ci mettiamo Il call cook Qua dentro Ok Nonostante Il backpack Qua Ho di nuovo Già l'inventario Bello pieno 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 Ciao Cavalli Se lo mangiano i pane I cavalli Si se lo mangiano Ok dai Che mi dici Fatti cavalcare Dai Fatti cavalcare Uh grande Si è fatto cavalcare Uh E non è nemmeno male Ti chiamerò Beppos Andiamo Beppos Spè Ti metto pure la 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 cosa qua Ah no Ce l'avevo nell'inventario Spè Vieni Beppos Io il mio Cavallo Beppos Andremo All'avventura Magari Guardando avanti Perché altrimenti Ci sciantiamo Cos'è sta roba Forse è una Tana Di una strega Della Witchery Spè Beppos Beppos Fermo qua Andiamo un attimo Beppos Allora Oh no L'acqua Ah Beppos Scappa Vogliono attaccarci Beppos Alla L'acqua Aiuto Ok Però adesso Con Beppos L'esplorare Diventa un po' Più Difficile Mentre si Registra Per un po' Di laghetta Cattivella Allora Tu goblin Cos'hai da offrirmi Perché non mi Non mi ci Tredda Vabbè Sto cacchio Allora Ah Via Ok mi sa che adesso Smetterò un attimo Di registrare Perché Così La registrazione Va Cioè nel senso La generazione del mondo Va meglio Anzi aspettate Vedremo un attimo Cos'è quella cosa Ok Ehi Piano piano Beppos Beppos Congrazia Beppos Congrazia Beppos Congrazia Ah potrebbe essere Permo dove sei Beppos Potrebbe essere La casa di questi cosi O forse no Bah Strana cosa Ok Beppos Vieni qua Andiamo all'avventura Quindi si ci rivediamo tra poco Magari quando ho trovato qualcosa Di utile E ho un deserto Ok sono arrivato Su una penisola E qua sotto C'è qualcosa Dell'Advent of Ascension E chissà che cos'è Sembra tipo Uno di quei cosi Di Minecraft Del normal ma Oh 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 Che cosa sono quei cosi Ok è tipo un tempio Però Ho incontrato Quella creatura prima E per qualche strano motivo Non me la faceva attaccare Quindi deduco Che dovremo muoverci Molto piano Però aspettate Com'è che avevo settato Ok Tempio Tempio Ok Save E mi salvo la posizione Di questo strano tempio Così magari ci riandiamo La prossima volta E già E comunque no Davvero Il deserto Non vuole farsi trovare E mi sa Che Boh Non lo so Dovrò fare Qualche magia Per trovare questo deserto Oppure utilizzare La normal tecnica Minecraftiana Del andare nel nether Camminare lì E poi fare un portale Vedere dove cavolo Sei finito Così da camminare Per più tempo Perché Non so se vale Anche Per La 1.7 Però Che non ricordo Con tutti gli aggiornamenti Si è bloccato il cavallo Ok Wow Ok Non ricordo Con tutti gli aggiornamenti Se Oh mio dio Cos'è quella figata Ah Ah Un uccello azzurro Mori 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 Perfetto Oh mio dio Cos'è quella figata È bellissima Ma ciao Uh Si trova anche sulla terra Pensavo di no Uh Bello Ok Lì c'è un Rottweiler E ci sono Tanti milioni Di uccelli Uh Lì C'è qualcosa Nascosto Sottoterra Ok Mi sa che c'è un dungeon Qua dentro Ah Ok Ammazza Ammazza Ok Perfetto E Wow Questa roba Mi sa che è una bella figata È della artifacts È una figata della artifacts Artifacts Ok Qui ci saranno delle Cose cattive Però mi sa che non è The blood man is Moon is rising E non va bene No 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 Nemmeno per idea Tu devi morire subito Perché devo dormire Perché se sale la blood moon Moon Siamo fregati Uh no Dormi Come non mi sento stanco Mannaggia Dammi un attimo La blood moon è una cosa bruttissima Dov'è il mio cavalluccio Vieni qua Vieni qua Beppo Ah vuoi finire Mannaggia Ok Mi sa che mi metto in acqua Sto fermo in acqua Anzi mi riparo nel villaggio acquatico Là E buonanotte Grazie Perché la blood moon È Una brutta cosa Questa è la mia prima blood moon Però conosco Terraria Perché penso che sia presa un po' da lì E poi Ho visto altri Modpack dove c'è E non è una bella cosa No Potrete tipo Eserci arrivati Guardando Il tutto rosso Tutto rosso Sì Che ci sono Dei lagni acquatici What the Che cacchio Ok Ha sponato un fantasma Non mi interessa Un cavolo del fantasma Io devo nascondermi Ehi Nella chiesa C'è lo spazio Per un povero cristo Qua Sì Posso Posso restare Ok posso restare Mi hanno dato il permesso E quindi Vi ringrazio Per aver visto questo video Ci rivediamo nel prossimo video Dove Faremo robe Ouch Robbe esplosive Cioè guardate No E che cacchio C'è ma andrà mai In giro di notte Così Comunque mi sa Che farò tipo Una chest In questo villaggio Non lo so E Ci metterò Tutta la roba dentro E poi Andremo ad esplorare Magari qualcosa Perché adesso Non ho il minimo spazio Per fare queste cose Quindi ancora vi ringrazio Per aver visto questo video Stiamo su sta robaccia qua E ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Ehi Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere Tramite un like Un commento Ma non per quella cosa Un milione di like Sono il più figo di tutti Oh yeah Ma semplicemente perché così capisco Se una cosa vi piace Oppure meno E Grazie per aver visto questo video Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 a tutti